Eccoci qua, come sembra l'Italia che cambia, per questo Stato noi ci dovremmo mettere a rischio, dovremmo diventare politici, dovremmo diventare gente che deve cambiare il mondo. 15 agosto 2012, la fila sulla Supertrade delle Terme, come sempre, tutti che partono alla stessa ora e tutti che vanno sempre allo stesso posto. Sono 30 anni che si ripete lo stesso, identico, rituale ogni 15 di agosto. Eccoci, velocità calcolata 70 km orari, come imposto da cartelle stradali su questa grande superstrada, scorrimento veloce, qui addirittura si parla di 50 all'ora, abbiamo il solito ponte che ha avuto una leggera crepa 20 anni fa e non è stato più ricostruito, si è preferito fare questa bella deviazione, con questa curva pericolosissima, piuttosto che rimettere un po' di cemento al ponte che si era leggermente credato. E continuiamo così. Anche oggi metteremo il nostro bravo filmino su YouTube, senza base musicale così non incorriamo nel rischio di violazione del copyright, la mia voce fortunatamente originale e non è scritta alla CIA e quindi possiamo lavorare tranquilla, almeno per quello, finché ce lo permetterà. Eccoci, ci sono circa 10 automatture davanti a noi, queste sono tutte le macchine che ci hanno sorpassato in salita e che adesso fanno questo bel corteo davanti a noi. Eccole. E arriveremo a guardia così, piano piano, pian pianino, belle tranquille. Così ci gusteremo appieno questo video che stiamo girando. In questi casi ovviamente non c'è nessuna possibilità di sorpasso, anche perché sorpassare significa stare davanti all'altra macchina che è ancora più consulente di quella che ci pregeva. Ormai da quando viaggiamo con l'auto a metà, a metà, a metà, abbiamo quasi schifo delle macchine a gasolio e a benzina. Purtroppo è inutile parlare con tutta questa gente che cammina un giorno contente e orgogliosa dei suoi 150 cavalli e di andare a fare il pieno ogni due giorni con la media di 80-100 euro in casa. La spetta. E' una puzza di catalizzatore da fare paura. E continuiamo così. dal mare saliamo in montagna e dalla montagna scendiamo al mare. Ecco il 70 all'ora che campeggia qui su questa superstrada. E andiamo a mare. Oggi il traffico è abbastanza sostenuto. Rimianco tantissimo quei viaggi che faccio d'inverno per il mio amico, tra l'altro Domenico le rosa è colpato in queste zone marittime e su questa strada non c'è praticamente nessuno, non si trova neanche un cane. Ed è bellissimo attraversare queste montagne, questi posti meravigliosi senza vedere nessuno né davanti né dietro. Un freddo, acqua, che impesta, vento, nebbia. Una meraviglia questa strada. E invece adesso è in base a questa horda di turisti che speriamo se rimane il prima possibile. Ecco qua, guardate che meraviglia su questa superstrada. Guardate che meraviglia. Alla faccia della crisi. La cosiddetta crisi che ci sta tagliando tutti. Alla faccia della crisi. Alla faccia della crisi. Alla faccia della crisi. Siamo nelle ultime gallerie che ci separano dalla ridente cittadina di Quartio Piemontese Marina e di Apropesa, la stazione permale dove ci richiamo ogni anno a fare le nostre cure permali, fanghi e bagni. Sono circa 10 e mezzo di mattina e questa è l'attuale situazione sulla strada di scorrimento veloce delle Terme. Qualche cenno storico, questa strada fu costruita negli anni 70, vi ricordo che vi venivo con mio padre qui a bordo di una Fiat 128 con un altro Radio 8, sentivo le prime emittenti private quando ancora le antenne del 2000 erano in embrione e ci cominciavamo ad innamorare del meraviglioso mondo radiofomico che poi ci ha dato grande soddisfazione e contemporaneamente anche grande delusione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto il mare calabrese è un'immensa porcheria, tranne qualche litro tipo Cariati o Roseto Capospolico, ma noi continuiamo ad andare tranquilli e beati al mare, ecco qua, guardate che meraviglia, un lunghissimo serpentone di gente che va al mare, andate, andate, non c'è un depuratore che funziona su tutta la costa tirrenica, mi pare di aver sentito dagli ultimi sondaggi effettuati. Questo ci fa immensamente piacere e dimostra che ancora una volta che tutti gli enti preposti funzionano alla grandissima. Continuiamo così, continuiamo così finché è possibile, quando ci renderemo conto di dove stiamo andando a finire sarà troppo tardi purtroppo, è già troppo tardi, comunque niente pessimismo, la Calabria è sempre meravigliosa, sempre bella, venite in Calabria e venite soprattutto a vedere la meravigliosa della provincia di Cosenza, con le sue due mari, le sue montagne e magari ascoltate qualche canzone del compianto Rino Gaetano quando venite in Calabria, lui si che sapeva bene la storia già 30 anni fa e da allora non è cambiato assolutamente nulla, fortunatamente, eccoci qua, media di 40 all'ora, siamo arrivati a Guardia, eccovi qua, tutti i piloti di Formula 1, questi andrebbero bene tutti quanti alla 24 ore di Le Mans davanti a noi la montagna da cui sgorga l'acqua sul furia dove andiamo a fare i bagni e i fanchi termali, addirittura ci fermiamo, benissimo, grazie